La situazione libica, adesso senza improvvisarci, o almeno io, grandi esperti di questioni internazionali, però la situazione libica è una situazione che è totalmente sfuggita di mano ai paesi europei, Italia compresa, ed è sfuggita di mano innanzitutto per le divisioni interne all'Europa. Ricordo che la fine del regime del colonnello Gheddafi, che non ha mai goduto della mia personale simpatia, nel colonnello, nel suo regime, i suoi libretti e le orrende manifestazioni, compresa quella che si è svolta a Roma per indottrinare alcune centinaia di ragazze, non dimentichiamocelo, perché noi nel nostro paese abbiamo visto anche questo, come strumento in qualche modo di buone relazioni internazionali dell'Italia, perché in qualche modo fu interpretata così all'epoca, per non dimenticare... O il quartier generale montato in una villa borghese, no? A Villa Panfili. Tenda che per la verità Gheddafi montò anche a Parigi e anche in altri posti in giro per il mondo, quindi diciamo questo pessimo spettacolo non si è visto solo a casa nostra, per essere sinceri, ma comunque questa vicenda è sfuggita di mano all'Europa, tant'è che l'intervento militare decisivo che abbatte quel che restava in piedi del regime del colonnello Gheddafi è stato svolto da alcuni paesi europei, Francia in testa, senza l'approvazione degli altri, quindi diciamo l'Europa ha dato pessima prova di sé in quella storia e le cose sono continuate così. Oggi tutti i paesi europei continuano a dire, a usare parole di grande buonsenso, ma di scarsa presa sulla realtà, perché quando tutti dicono che bisogna cercare una soluzione diplomatica di questa storia, quando dal 2011 a oggi tutti i fatti accaduti in Libia sono avvenuti fuori dalla dimensione diplomatica, ma sono avvenuti in altre dimensioni, quella del confronto sul controllo dei posti di petrolio, con interventi di finanziamento militari e di intelligence di molti paesi dell'area, allora questa retorica europea pur italiana di richiamo a risolviamo politicamente per via diplomatica, questa storia fa un po' ridere, detto ciò speriamo che la conferenza di Berlino porti a qualcosa. Tutti gli occhi delle diplomazie, non solo europee, sono puntati su Berlino, anche perché quello che ci si aspetta è che venga fuori una qualche soluzione concreta per la Libia.